Ciao a tutti, oggi sono qui per sfogliare insieme a voi il Borda Easy, questo qui che è l'ultimo per il 2020. Come sempre all'interno della rivista ci sono modelli che sono adatti a chi inizia a cucire, secondo me, nel senso che sono quelli più semplici, quelli anche un po' più veloci da realizzare e quindi, insomma, secondo me è una rivista molto consigliata appunto a chi vuole approcciarsi per la prima volta ai cartamodelli o chi comunque vuole prima imparare le tecniche e poi passare magari a dei cartamodelli un pochettino più elaborati come quelli del Borda Classico e all'interno appunto ci sono, di questo numero, ci sono alcuni modelli da archivio, quelli che io dico che sono da archivio perché sono quei modelli basic che comunque sono sempre comodi da tenere lì. Però lo sfogliamo subito insieme che così vedete di quali modelli sto parlando. Mentre lo stavo montando mi è arrivato un pacco e dovevo assolutamente mostrarvi cosa c'era dentro perché viene da Borda, quindi non siamo fuori contesto. Allora, se seguite la pagina Instagram di Borda, sicuramente l'avete visto, comincio col pezzo di punta perché non ce la faccio e sono usciti con tutta una linea dedicata alle copertine vintage e io sono stata contentissima di aver ricevuto i fatti grazie a Borda per avermi mandato il calendario top, mi piace veramente tantissimo. La cosa bella è che all'interno, ve lo mostro dietro, ci sono tutte le copertine storiche di Borda, quelle originali, e all'interno insomma avete sia le grafiche belle grandi, infatti io sono contenta che le stampe siano belle grandi, e poi sotto comunque avete anche il calendario, per cui fa sia da quadro, poster, barra calendario. E sono veramente belle, vediamo se ne trovo una che mi piaceva tantissimo, c'è questa qua che è molto bella anche, molto anni 60. Insomma ci sono diverse grafiche, andate a vedere poi anche sul sito, ovviamente le trovate in vendita sul sito queste cose, e insieme al calendario mi hanno mandato anche il poster, e questa è in assoluto la grafica che mi è piaciuta di più, perché c'è anche nel calendario, però così a poster secondo me è molto più bella, ed è la copertina così tipo sposa, bellissima, poi è rosa, per cui ci sta un sacco bene nella mia stanza, e ho già cominciato a pensare dove potrei appenderla, però non ho ancora trovato un posto adatto, perché purtroppo la, diciamo, avendo fatto poi la parete con tutte le mensole, ho lo spazio un po' limitato, e poi, questo lo chiudo dopo, mi hanno mandato anche la shop con emburda, che è questa qui, ed è in cotone naturale, e con la stampa, e con la stessa stampa c'è anche la bustina, che comunque fa sempre comodo, perché le bustine io ogni volta che mi servono non ne ho, ed è sempre fatto uguale, in cotone naturale, e poi piccola chicca, molto carina anche questa, con la stessa stampa, vedete, di latta, e soprattutto non è che si apre, per cui si ruota per aprire, all'interno c'è un mini set di cucito da viaggio, e ci sono i fili, l'aggole, forbici, insomma ci sono diversi accessori, che comunque sono sempre utili da avere, io ho anche un set piccolino da borsetta, perché non si sa mai, insomma, che così devo cucire, e ce l'ho, no? E questo è carino, perché comunque voi poi gli accessori, li potete portare da qualche altra parte, o usare proprio questa scatolina qui, e poi io pensavo di riutilizzare questa scatolina, come porta shampoo solido, perché il mio shampoo solido, non ho dove poggiarlo, quindi secondo me questa va benissimo. Comunque tutto questo che vi ho mostrato, ovviamente è in vendita sul sito di Burda, e quindi potete anche andare a vedere più nel dettaglio, o i vari prodotti se vi interessano, e chiudo la parentesi, e vi lascio sfogliare il Burda. Allora, i cartamodelli ovviamente sono inclusi all'interno della rivista, erano appunto impacchettati insieme, però erano staccati, per cui volevo solo farveli vedere, ma per farvi sapere comunque sono inclusi. Allora, inizierei dalla panoramica dei modelli contenuti all'interno, e in questo caso sono cinque, e hanno tre varianti ciascuna, per cui abbiamo una maglia che diventa abito, una gonna, un abito, il pantalone e una giacca. Subito trovate tutte le istruzioni, sia per trovare la vostra taglia, per cui c'è la tabella con le taglie, e me lo chiedete spesso, le taglie per il Burda Easy sono dalla 34 alla 44, quindi anche più piccolina, perché la 34 sul Burda Classico non è che si trovi spesso, quindi avete tutte le istruzioni, anche i riferimenti insomma, per capire anche le istruzioni, qualche passaggio. La special guest di questo numero è Enrica, per cui all'interno della rivista appunto ho trovato un'intervista dedicata a lei, e un tutorial in più per realizzare questo Maxi Cardigan, che ha realizzato per lei, adesso ci arrivo la special designer, cioè la guest designer della rivista, che appunto è Le Piume del Colibri, per cui se non la conoscete trovate anche un'intervista appunto a lei, e poi tutti i riferimenti social, sia per seguire lei che per seguire Enrica. Qui invece avete le istruzioni per realizzare anche voi quel Maxi, forse ho detto Maxi Cardigan, in realtà è un Maxi Gillet, ed è anche molto bello, infatti ve lo mostro un pochettino meglio, qua avete anche diverse immagini, e mi piace molto anche il tessuto che hanno utilizzato, che comunque è bello peduscioso, bello soffice, molto carino come progetto, potete prendere spunto. Poi invece iniziamo subito con i modelli della rivista, quelli contenuti appunto nei cartamodelli. Allora, c'è questa maglia, che è una maglia molto basic, ed è il primo modello d'archivio della rivista, e appunto ha questo Maxi Scollo davanti, c'è un collo tondo ma abbastanza profondo, e ce l'avete nella versione con le maniche d'unghe, con la mezza manica, che potete anche indossare, qui vi mostrano il contrario, e quindi diventa più accollata sul davanti, e avete lo scollo dietro, oppure nella versione abito, e questo è molto bello, mi piace molto. Quindi queste sono le tre varianti, e avete ovviamente per ogni progetto, tutte le istruzioni illustrate. Poi il secondo modello della rivista, è questa gonna con elastico, e diciamo che è quel modello basic, che io consiglio sempre a tutte le persone, che vogliono iniziare a cucire, proprio perché è molto semplice da realizzare, io ve l'ho proposta diverse volte, proprio anche senza cartamodello, in questo caso invece ho trovato un cartamodello, che rispetto al modello che faccio di solito io, è leggermente più sagomato, infatti se vedete, veste anche un pochettino più aderente. Questa è nella versione mini, se no c'è in una versione più lunga, e con questo tessuto è molto bella, molto elegante, mi piace molto, oppure ce l'avete nella versione con il volant sull'orlo, per cui è anche un'idea per prendere spunto, insomma per personalizzare la vostra gonna con elastico. Qua avete appunto tutti e tre i modelli, le istruzioni illustrate anche per questo modello qui. Poi arriviamo all'abito, questo abito qui con manica un po' a pipistrello, e nello specifico di questo qui ho fatto il video tutorial, che trovate sul canale di Burda. È un progetto molto semplice, e molto veloce da realizzare, forse l'unico passaggio un pochettino più difficile, diciamo, ma perché non ci avevo mai provato, era l'asola appunto fatta a mano, però insomma vi spiego all'interno del video come realizzarla, diciamo penso sia un abito abbastanza comodo, che comunque va bene anche per tutti i giorni. Quindi ce l'avete in questa versione così, la versione maglia, per cui la fate più corta, che diventa una maglia, oppure la versione un po' più lunga, rispetto invece alla versione che ho fatto io. Poi dipende anche da quanto siete alte. Queste sono le tre varianti, ovviamente le istruzioni illustrate, che appunto si aggiungono anche al video tutorial, che trovate sempre sul canale di Burda, mi ricordo. Poi c'è un altro modello, che secondo me è un archivio anche questo, ed è il pantalone. Questa è la variante con i volant qui sul fondo. Questa è la variante classica, proprio con il, come si chiama, la gamba un po' stretta, però non è aderente, per cui per quello secondo me è molto classico, e questo qua secondo me va benissimo da tenere lì, insomma con diversi tessuti potete creare diversi outfit. E poi c'è la versione un po' retro, che appunto arriva sopra alla caviglia, e che con queste scarpe è sempre bellissimo. Quindi queste le tre versioni, anche di questo ovviamente tutti i passaggi illustrati, e poi la giacca. Allora la giacca, anche questo modello qui mi è piaciuto, diciamo che in generale mi sono piaciuti un po' tutti i modelli che sono contenuti all'interno di questo numero. La giacca è particolare perché ha diversi dettagli, nel senso ci sono diverse cuciture, quindi forse rispetto agli altri modelli che richiedono un impegno un pochettino maggiore. Ci sono i bottoni che vengono nascosti all'interno della giacca, una volta che si chiudono. E questa qui è la variante con il volano, è la variante più lunga, per cui ha questa giunta qui un po' arricciata sul fondo, al colletto però è tirato su. Vedete questo collo un po' particolare. Poi c'è la versione corta senza collo, per cui resta proprio classica. In alternativa potete fare la versione corta però sempre con il collo. E qui appunto viene un pochettino più elegante, ma è un elegante sportivo, no? Per cui sta sempre bene. Qua ovviamente per tutte e tre la versione avete le istruzioni illustrate. E poi alla fine della rivista possiamo vedere alcune anticipazioni del prossimo numero. Abbiamo questa dolce vita qui, che è anche d'archivio, un pantalone comod della tuta che secondo me è sempre d'archivio, un'altra giacca e quest'abito qui che è molto molto grazioso, per cui il prossimo numero sarà in edicola dal primo di febbraio. Questi sono tutti i modelli all'interno della rivista, quindi appunto del Burda Easy per quest'anno, l'ultimo di quest'anno. Vi ricordo che sul canale di Burda trovate il video tutorial dell'abito che ho realizzato appunto per loro, per cui vi lascio il link giù in descrizione, così potete andare subito a vederlo se ve lo siete persi. Intanto io vi dico anche che potete seguirmi sui social se volete rimanere aggiornati anche sui prossimi progetti di cucito, insomma anche le altre novità. E vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, ci vediamo al prossimo. Ciao!